musica e rieccoci per l'ultimo giorno di questa vacanza qua in Toscana oggi è il giorno del rientro appunto cercherò un po' di anticipare i tempi rispetto magari la sera tardo pomeriggio visto che comunque penso che oggi sia per il rientro un giorno da bollino rosso quindi ho visto che qua in zona ho visto stasera, ieri sera, bazzicare un po' su youtube ho visto un video di un collega che magari vi lascio in descrizione iscrivetevi magari anche al suo canale non mi ricordo bene il nome wild comunque anche lui tratta di viaggi in moto wild che sherry qualcosa non mi ricordo bene io con i nomi inglesi ragazzi comunque mi perdoni comunque vi lascio il video dove ho preso questo passo che mi è piaciuto molto dal suo video che è il passo in pratica del vestito andrò a fare questo passo vi lascio il video del collega in descrizione se lui accetterà appunto la citazione e niente farò questo passo dal vestito e poi andrò a prendere la betone pensavo di farla cisa però visto che c'è la betone che non ho mai fatto quindi andrò a prendere poi la strada che porta verso la betone il monte cimone appunto giornata che parte molto calda quindi niente ragazzi primo pezzo sarà tutto un po' di statali credo quindi non vi faccio vedere tutte ste statali e ci vediamo direttamente nei pressi del passo del vestito quindi a dopo ragazzi a dopo ed eccoci ragazzi siamo in quel di massa massa siamo proprio a massa ragazzi ok guardate qua di fronte cosa cosa ci regala il panorama già un panorama appenninico appenninico con monti marmorei visto che a massa c'è marmo massa carrara marmo di carrara siamo qua in zona quindi niente adesso andremo a prendere la strada che ci porterà al passo del vestito ovviamente non vi farò subire la città e ci vedremo più in là eccoci qua ragazzi passo del vestito ho trovato un navigatore qua davanti ahahah grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Mancano due chilometri al passo dalla betone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. O quasi. 600 metri. Quindi siamo arrivati. Ok ragazzi. Io inizio a ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.